Buonasera e ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life, tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Bus Cotral e ASM insieme in un capolinea rinnovato alla stazione, mentre a Piazza Cavour si libereranno 70 posti auto, tutto, soprattutto sul capolinea, il nuovo capolinea alla stazione, nel servizio di Martina Grillotti. Era stato già anticipato, ma ora c'è il progetto un nuovo capolinea Cotral e ASM alla stazione di Rieti. Le opere che verranno avviate in autunno sono state presentate questa mattina in comune. C'è anche già una data prevista per la fine dei lavori, luglio 2025, mentre è già attiva la gara per i lavori da 1,2 milioni di euro. Ci sarà un ampliamento dell'attuale piazzale, ma soprattutto sarà realizzata una struttura che accoglierà uffici e una sala d'aspetto, 100 metri quadri, logati Cotral, un fabbricato chiamato Lanterna, luminoso di giorno e soprattutto di notte, e poi 7 banchine Cotral e 5 ASM, oltre a 10 stalli per i bus. Tutto volto all'intermodalità tra bus, treno e auto, ma anche alla sicurezza, con il controllo degli accessi e l'illuminazione alla base. Nel progetto c'è anche ecosostenibilità, soprattutto nella struttura della Lanterna, che sarà realizzata con materiali green e fotovoltaico. Un vero e proprio stravolgimento per la mobilità cittadina e provinciale, quello presentato insieme all'assessore regionale dei trasporti, Fabrizio Ghera, al presidente di Cotral, Amalia Colaceci, e all'assessore al centro storico e all'urbanistica del comune di Rieti, Giovanni Rositani, oltre a tecnici e dirigenti Cotral. Un grandissimo cambiamento e soprattutto tanto atteso dalla cittadinanza, come ha sottolineato anche il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi. Nell'attuale zona di Piazza Capur, che oggi ospita il capolinea del nostro DPL, che è una zona ridosso dell'area del centro storico dove stiamo investendo, sempre grazie alla Regione Lazio, tra i 18 milioni di euro, che saranno progettati non appena raggiunta delle generali strategie territoriali. Ci sarà spazio anche per nuove aree sosta. Dopo quasi un mese e mezzo ancora non si sa nulla, i soldi non sono ancora arrivati e la cifra non si conosce. Stiamo parlando di quanto raccolto per la serata benefica la notte dei miracoli, andata in onda sul Rai 1 in seconda e terza serata il 2 gennaio e registrata il 27 dicembre. I soldi dei ticket, che andavano da 63 a 105 euro, è stato subito detto che sarebbero andati alla mensa di Santa Chiara, che quotidianamente si occupa di dare un posto caldo a chi non ce l'ha. A distanza ormai di alcune settimane, denuncia il Corriere di Rieti, non si conosce ancora la somma raccolta grazie alla solidarietà degli spettatori che hanno pagato il biglietto. Neppure la mensa di Santa Chiara, beneficiaria della generosità di chi ha assistito alla serata, sanno niente e l'assessore al turismo Chiara Mestichelli sottolinea che a occuparsi della cosa è la società preposta all'organizzazione della vendita dei biglietti, avendo l'amministrazione comunale indicato solamente che avrebbe beneficiato della solidarietà. La serata, inserita nei festeggiamenti degli 800 anni del presepe, è stata organizzata dal Comune di Rieti con il Comitato nazionale per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di Greccio 2023, insieme alla Regione Lazio, è prodotto da Eurovisione Eventi SRL e Palco Reale SRL. Si torna in campo dopo il 20 febbraio allo stadio Maglio Scopigno, una vicenda articolata, tutto nel servizio di Valentina Fabri. Una giornata importante quella di oggi per conoscere il destino del Maglio Scopigno. Si è tenuto questa mattina il tanto atteso sopralluogo per verificare lo stato attuale del manto erboso, dopo l'intervento da 35.000 euro richiesto a fine novembre per la riqualificazione e il ripristino delle condizioni ottimali dello stadio. Al termine dei controlli eseguiti dagli ingegneri incaricati, società sportive e tifosi hanno finalmente appreso la data che segnerà la riapertura dei cancelli e il ritorno sul campo dello Scopigno. Il 25 febbraio sarà l'FC Rieti ad inaugurare il nuovo manto erboso messo a punto dalla ditta EcoService. Nessuna reazione nella mattinata da parte delle società interessate con l'FC Rieti, che è tutt'oggi affidataria dell'impianto, e con SSA Rieti, pronta ad investire 150.000 euro nel caso si proceda al bando di assegnazione della struttura, come annunciato su Rietilev TV. Siamo pronti, ma per una stagione invernale è arcinoto che serva la neve e le temperature adeguate. A parlare in un'intervista a Reuters è il presidente di ASM, Vincenzo Regnini. L'agenzia di stampa britannica ha pubblicato ieri, 5 febbraio, il focus proprio sul Terminillo. Gli impianti di risalita sono spenti e i cannoni sparaneve giacciono abbandonati, si legge nell'articolo. Non solo non ha mai nevicato, ma le alte temperature hanno addirittura reso impossibile produrre neve artificiale con i cannoni, ha detto Regnini a Reuters. Per trasformare l'acqua in neve è necessaria una temperatura almeno vicina allo zero. La settimana scorsa ne abbiamo avuti 12 di gradi centigradi. Un parco inclusivo al centro commerciale Perseo sarà pronto a primavera. Il servizio. Un nome che evoca traguardi, degno di un progetto tanto ambizioso quanto condiviso e accolto con entusiasmo dalla città. Parco della Vittoria. Tante le realtà che hanno voluto sostenere e contribuire, a cominciare dalla Fondazione Varrone, passando per Tecton, che si è occupata delle opere di posa dei giochi, e per l'azienda vivaistica Conti, che ha curato il verde dell'area. Il Parco della Vittoria è pronto ad accogliere tutti i bambini nell'ampio spazio antistante il centro commerciale Perseo, già dalla prossima primavera. Tutti, perché è con questo intento di inclusività che il progetto ha preso forma fino a diventare una realtà concreta. Tre scivoli, una parete da arrampicata, una tabella della comunicazione adeguata ai bambini non verbali, una panchina semicircolare per permettere anche a chi è in carrozzina di partecipare alle conversazioni. Tutto pensato, voluto e realizzato per azzerare ogni tipo di disuguaglianza e limitazione, motoria o cognitiva. Giocare è un diritto di tutti i bambini. È stato proprio questo il presupposto da cui partire per Atletica Sport Terapia e la sua vicepresidente, Anna Carla Purificati, promotrice ed ideatrice del Parco della Vittoria, idea da subito entrata nel cuore dei reatini, che con donazioni di privati ed aziende ed iniziative solidali hanno contribuito alla realizzazione di un'opera unica che, si spera, non resti un caso isolato. Rieti e i reatini brillano a Sanremo nella prima serata, quella di oggi. La rassegna si apre con la fanfara dei carabinieri a cavallo, con otto reatini. Sono Luigi Gentileschi, Gabriele Palmeggiani ed Ettore Desideri, ma anche Marco Graziani, Massimiliano Gallina ed Alessandro Gallina, insieme a Fabrizio D'Angeli, Simone e Simone Onofri. Ma non solo, sul palco Suzuki, un altro concittadino Giulio Proietti, che venerdì 9 febbraio sarà ospite alla batteria nell'esibizione di Arisa. Una collaborazione con l'artista, spiega Proietti, che è partita dal 2011 e ha avuto grandi successi, tra cui la registrazione di Meraviglioso Amore Mio, che è diventata anche disco di platino, dice Proietti a Rieti Life. E dietro le quinte, un'altra reatina che all'Ariston renderà tutti, soprattutto agli artisti più belli all'altezza delle serate. Si tratta di Moira Zelli, che vedete nella foto insieme a Fiorello, hair stylist, che da anni si occupa proprio delle acconciature di Sanremo. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, che torna domani, sempre alle 20.45. Nel frattempo rimanete informati con i nostri siti, con i nostri social e con il nostro free press. Inviate le vostre segnalazioni a info-riettilife.it. Grazie alla regia di Luciano Mancini, grazie alla redazione, grazie a voi per averci seguito. Buona serata. Grazie a tutti.